Le nostre lingue, le nostre diversità non sono un ostacolo. Cristo Gesù, salvandoci, ci aggrega nel suo popolo, che parla, anche se con tonalità diverse, la sua lingua, quelli che tutti comprendono, la lingua dell'amore. E' il dono che questa sera lo Spirito del Signore porta a ciascuno di noi. Vogliamo accogliere questa sera un invito che il nostro Sampio da Pietreccina scriveva a una sua figlia spirituale. Vogliamo accogliere, ascoltare questa sua parola. Così si rivolge Sampio. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi. Abbandonatevi a tutti i Suoi trasporti e non temete. Egli è tanto sapiente, soave e discreto, da non causare che il bene. Quale bontà di questo Spirito Paraclito per tutti, ma quale per voi, massimamente, che lo cercate. Se lo cerchiamo, questo dono è per tutti noi, per ciascuno di noi. Lo invochiamo e lo attendiamo.